Ok ragazzi, un nuovo video. Oggi parleremo dell'ectomorfo, come fare a crescere se si è ectomorfi. Allora, partiamo da un presupposto. A me non piacciono queste classificazioni. Non piacciono perché fanno vedere un po' tutto bianco o nero. Ok, quindi se hai ectomorfo, c'hai queste caratteristiche, se hai mesomorfo, c'hai queste altre, se hai endomorfo, c'hai queste. Quindi ti devi comportare A, B e C in queste maniere e otterrai risultati. Però abbiamo caratteristiche che si basano su diversi fattori, quindi l'ectomorfo ha una determinata costituzione scheletrica, una determinata predisposizione muscolare, un determinato assetto metabolico, eccetera, eccetera. anche con questioni posturali di mezzo. E, logicamente, non è sempre così. Nella maggior parte dei casi siamo sempre un ibrido. Ma io posso avere una struttura scheletrica da endomorfo o da ectomorfo, però avere una predisposizione alla crescita muscolare da mesomorfo, avere un setting metabolico da endomorfo piuttosto che ectomorfo, eccetera, eccetera. Cioè posso essere tranquillamente un mix. È vero che ci sono dei singoli fattori come, di nuovo, la struttura scheletrica, predisposizione muscolare, setting metabolico, eccetera, che bene o male si ritrovano in tanti individui e dei tratti comuni che associano molto spesso in maniera conseguenziale questi fattori, però non è sempre bianco e nero. Quindi di default a me queste classificazioni non piacciono. Avete la vostra personalità o il vostro cliente davanti, avrà le sue caratteristiche individuali, le analizzate e vi muovete di conseguenza. Così si lavora, ok? Non ci si basa sul tabello di impostazioni prefatte. Però ciò detto, quando parliamo di ectomorfo, generalmente parliamo di un soggetto che ha difficoltà a crescere, ha difficoltà a mettere massa muscolare. E nella maggior parte dei casi il problema di base è che nel momento in cui spinge a livello calorico si ritrova in una situazione che viene denominata skinny fat. Ossia non riesco a crescere di muscoli, però comunque un minimo di grasso lo prendo, quindi alla fine mi sporco, non ho più neanche l'addome in vista e quindi sono grasso ma secco. E è la situazione peggiore in assoluto, ok? Perché non sono né muscoloso né tirato, sono il peggio di entrambi i mondi. Ora realmente la situazione di skinny fat quando ci si trova in questi casi è conseguenza di due fattori. In primis è che non siete ancora abbastanza maturi, nel senso siete all'inizio del vostro percorso, all'inizio siamo tutti skinny fat, perché non abbiamo masse muscolari sopra fisiologiche, assolutamente dobbiamo ancora costruirle, e quando iniziamo a spingere a livello calorico ingrassiamo un minimo, quindi è normale che la BF salga. E a meno che non abbiamo una buona predisposizione genetica, l'effetto sarà quello di essere degli skinny fat. Quindi va benissimo così, non c'è assolutamente problema. E il secondo fattore è che state mettendo in atto quelli che sono normalmente i consigli che vengono dati all'ectomorfo, che sono i migliori consigli per ritrovarsi in questa situazione di skinny fat, dove però la conseguenza sarà che la bilancia salirà, perché salirà, e quindi in un certo senso gli viene detto che è così, è giusto che sia così, ma non è così nella maggior parte dei casi. Quindi quelle che analizzeremo oggi sono delle strategie per crescere nel caso in cui siete soggetti che hanno difficoltà a mettere peso, ma più nello specifico mettere massa muscolare. Con una premessa che è molto importante. Dopo 3-4 anni di lavoro fatto bene, i periodi di bulk per un bodybuilder, per un atleta, sono, dovrebbero sempre essere caratterizzati da questo fattore, ossia difficoltà a mettere ulteriore massa muscolare. In altre parole, dopo 3-4 anni fatti bene, il bulk per gli atleti è mangia in maniera razionale, derivante da buone fonti, logicamente, tutto quello che riesci a mangiare, ossia che da un punto di vista gastrointestinale riesci a sopportare. Normalmente è così, la richiesta energetica nel bodybuilding schizza veramente, veramente in alto quando ci alleniamo in un certo modo. Non tanto perché l'allenamento ceda tante energie, quanto piuttosto perché gli adattamenti, a un certo livello, vanno a chiedere veramente tante, tante calorie. Quindi spingere a 5-6.000-7.000 calorie al giorno gli atleti è perfettamente normale. Dopo anni e anni di lavoro, sia nel caso di atleti natural che in hand, il bulk viene caratterizzato da questo. Mangia tutto quello che riesci a mangiare, che non vuol dire mangiare junk food, vuol dire sempre avere un bilanciamento di nutrienti, eccetera, però la difficoltà è sempre quella di spingere con degli up calorici che sono necessari, ma che da un punto di vista gastrointestinale il nostro sistema non supporta. E va bene così, è perfettamente normale, perché non dovete essere gentili su un discorso gastrointestinale, o meglio, dovete cercare di salvaguardarlo, però non dovete preoccuparvi se arrivate a quel punto, perché il bodybuilding è spingere il corpo a un limite sovrafilisologico, quindi che ci siano dei fattori che vi cercano di ostacolare, come la sopportazione gastrointestinale della mole di cibo, è perfettamente normale, ok? Quindi se non vi ritrovate in questa situazione, dopo di nuovo 3-4 anni di lavoro fatto bene, c'è qualcosa che sbagliate di default, ok? Quindi questo per dire cosa, che questo video, consigli di questo video, riguardano anche atleti avanzati che hanno e dovrebbero avere difficoltà a mettere ulteriore peso. Allora, il primo punto in assoluto, e questo è l'errore principale che si fa quando ci si approccia un ectomorfo, non riducete l'allenamento, non allenatevi meno, non cercate di dare meno stimolo, perché per definizione se date meno stimolo allenante, il vostro corpo non sarà incentivato a crescere, e questo è il motivo per cui si ritrovano in skinny fat, perché spingono tanto con le calorie, però non c'è lo stimolo di adattamento ipertrofico, perché nel loro test, ok, ti faccio allenare meno, così hai meno richiesta energetica, in questo modo, se ti do da mangiare 4000 calorie, ma ti alleno meno, comunque il tuo peso sale e riesci a crescere. No, in questo modo crei un surplus direzionato nel tessuto adiposo, perché non c'è un grande stimolo di adattamento, in poche parole il corpo non sente tutta questa esigenza di adattarsi da un punto di vista muscolare, quindi sì il peso sale, però ci ritroviamo in una situazione di skinny fat, per l'appunto, perché il surplus energetico viene a questo punto direzionato, in maniera molto felice e semplice, nei confronti del tessuto adiposo, ok, quindi in primis non conservatemi in allenamento, questo vuol dire cosa? Che la cosa più importante nell'ectomorfo è cercare di lavorare tanto su quella che è l'intensità di allenamento, quindi cercare di farlo spingere molto in termini di intensità, soprattutto da un punto di vista di intensità percepita a grado di effort, e intensità di carico, quindi lasciate stare tecniche di intensità che tendono ad aumentare quello che è il volume di allenamento, failure point, effective reps, di questo abbiamo già parlato, mettetele un attimo da parte, lavorate tanto sul carico, lavorate con degli straight set semplici, ma spingete in intensità elevata, questo vi porterà ad avere uno stimolo molto importante con un volume di lavoro minore, quindi in un certo senso avremo una richiesta energetica tendenzialmente più bassa, soprattutto nelle prime fasi, però lo stimolo di adattamento ipertrofico sarà elevato, quindi la diminuzione del volume di lavoro non dovrebbe avvenire di default insieme all'intensità, ma dovrebbe essere conseguenziale ad un aumento dell'intensità per l'atleta, cioè ti spremo così tanto che più di tanto il volume non me lo sopporti, e quindi vado a ridurre. Anche qua la frequenza di allenamento dovrebbe essere una frequenza normale, non cadete nel trabocchetto di diminuire tanto la frequenza di allenamento, perché per gli ectomorfi o comunque per soggetti che hanno ritmi metabolici veloci, il ritmo metabolico veloce vuol dire anche che tutti i processi di protiosintesi, di adattamento muscolare sono più rapidi, quindi così anche nel momento in cui all'atleta lo nutriamo, sono più rapidi i processi di recupero, per cui la frequenza più bassa non ha senso, perché un atleta che mi recupera verosimilmente prima, non lo devo fare allenare con una minor frequenza, ma con la frequenza giusta, ossia il ritmo del suo recupero. Una volta che il distretto ha recuperato, che da un punto di vista sistemico ha recuperato, lo faccio riallenare, quindi sono nella maggior parte dei casi delle frequenze assolutamente normali, né troppo alte né troppo basse. Ok, secondo punto, non inserite il cardio, ecco questo è un discorso molto sensato, che viene suggerito e che deve essere assolutamente fatto, il cardio non ha molto senso, se volete puntare a una salute cardiovascolare, fare lavori su alte ripetizioni può avere un senso, se ce n'è necessità, ma nella maggior parte dei casi, nel momento in cui l'atleta si allena e soprattutto non è in sovrappeso muscolare, non avrà bisogno di salvaguardare la salute cardiovascolare, quindi si allena, è attivo, va bene così. Mantenete un neat normale, tendente un po' al basso, quindi anche sul neat cercate di non esagerare, a meno che non sia necessario per motivi lavorativi, però se vi dice che deve andare a fare le passeggiate, eccetera, se può è meglio che le eviti, però neanche cercare di stare quanto più possibile fermo sul divano, ok? Quindi avere un neat abbastanza normale, tendente al basso, quindi evitare situazioni in cui ci si muove troppo, logicamente se è possibile. Ok, terzo fattore, questo getterà un po' i presupposti per quello che diremo dopo, la cura del sistema gastrointestinale, perché uno dei problemi principali, nel caso in cui dobbiamo spingere un atleta a prendere massa muscolare, è assicurarci che da un punto di vista gastrointestinale, riesca ad assorbire, quindi non a mangiare, ma assorbire tutto con la massima efficacia, soprattutto da un punto di vista di microelementi. Quindi, sistema gastrointestinale vuol dire l'integrazione di probiotici al mattino, eventuali enzimi digestivi nei pasti più pesanti, eventuale bromelina nei pasti più pesanti, e una buona scelta di microelementi, o meglio, di fonti alimentari che contengono ottimi microelementi che possono aiutarci. Ho fatto un video su problemi gastrointestinali, problemi digestivi, come risolverli, ci sono diversi consigli, anche divisi in diverse fasi, quindi vi rimando a quel video per approfondire la tematica. Però assicuriamoci di tenere, curare, e coccolare il più possibile il nostro sistema gastrointestinale. E quarto punto, una volta che il sistema gastrointestinale è pronto, efficace, assorbe tutto quanto, spinta calorica. Dobbiamo spingere con le calorie. Quindi ci alleniamo come tori, ma dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare tanto. E ragazzi, di nuovo, nel bodybuilding, in questi casi soprattutto, ma dopo anni che vi allenate, le fasi di bulk diventano un dover mangiare a forza. Ok? Questo è un discorso in cui dovete entrare. Purtroppo, diciamo così che il mondo dell'influencer, del bodybuilding sostenibile, di tutto quel fattore che si distacca dall'old school, vuole far credere che qualsiasi sforzo, qualsiasi sacrificio che ci faccia viver male il quotidiano in qualche modo, che ci impegni nel quotidiano, che non sia in palestra, è visto male. Cioè, mangiare tanto, spostarsi per mangiare, è un qualcosa che non va bene, si faceva nell'old school ma non si deve fare. Ragazzi, è così, a un certo punto avrete la nausea di mangiare così tanta roba. E la scelta delle fonti che facciano bene, che ci facciano stare in salute, è fondamentale. Quindi non vuol dire mangiare tanto, quindi cause di problemi di resistenza insulinica, incidenti cardiovascolari e tutto il resto. I parametri di salute devono essere monitorati e scegliere delle buone fonti alimentari è la base. Ricordate sempre che è un discorso di bilancio energetico. Quello che stiamo dicendo è di mantenersi sempre in range di BF di salute, ma logicamente se la richiesta energetica è alta, dovete assecondarlo. Se voi vedete i piani alimentari di ciclisti professionisti, di nuotatori professionisti, di Ironman professionisti, ragazzi vi spaventate per la roba che buttano giù ogni giorno. E se voi a 700 grammi di carboidrati vi spaventate, vi viene la nausea, dite che è impossibile, siete delle fregne mosce, smettetela e scordatevi di fare gli atleti. Non siete degli agonisti, non siete degli atleti, fatelo per gioco e smettete assolutamente di vedere questi video, ok? È molto importante entrare in questo mindset. Il lavoro dell'atleta è in palestra, ma è anche fuori dalla palestra, a 360 gradi, nel prendersi cura di sé. Ovviamente sulla spinta calorica ho fatto diversi video su come gestire l'off season, su come spingere da un punto di vista calorico, il surplus da raggiungere tutto il resto. In questi casi diventa veramente mangia tutto quel che puoi mangiare. Sali gradualmente, abitua il sistema gastrointestinale, scegli delle fonti che digerisci molto bene, controlla l'input di fibre e varia le fonti, perché poi a un certo punto diventa anche una questione di nausea, non ce la faccio più a mangiare riso, non ce la faccio più a mangiare pasta. Allora, già variare con alcune fonti può far bene. Controllare che tutti i parametri di salute siano nei range, ma veramente diventa una questione di mangia tutto quello che riesci a mangiare. C'hai il tuo piano alimentare, te la senti di salire? Dai, sì, saliamo, ce la faccio, ok, saliamo. Dopo un po' te la senti di salire? Sì, perfetto, saliamo e tutto il resto. Faccio di nuovo l'esempio di Ale, perché il caso Lampante, in questo periodo di off season, stiamo qua, lui sta a 95 kg, ha una BF che è veramente bassa, idealmente noi dovremmo raggiungere i 100 kg, a 100 kg avremo una BF sicuramente ancora nei range, quindi saremo perfettamente in linea, da un punto di vista di salute siamo perfettamente nei range, il discorso è che non raggiungeremo i 100 kg perché non riuscirà a mangiare la mole di cibo necessaria perché dovremmo salire a un chilo e mezzo di carbo al giorno, cosa che da un punto di vista gastrointestinale non è possibile, quindi dobbiamo aspettare, continuiamo in bulk finché possiamo, poi scenderemo, risaliremo eccetera e nel corso degli anni andremo a costruire la massa muscolare, ci metteremo più tempo ma sicuramente andremo a salvaguardare comunque la salute perché ok spinta calorica però sempre con la testa. Quinto punto, la cycling, molto spesso la cycling non si fa ossia dividere giorni on e off, si dice semplicemente vabbè mangia quanto più possibile sia negli on che negli off, anzi nei giorni off stai comunque alto di calorie perché anche se non ti alleni anzi in questo modo non ti alleni quindi comunque abbiamo un surplus energetico eccetera eccetera. In realtà dalla mia esperienza la cycling è un'ottima soluzione perché è anche un'occasione sia per gestire quello che è la situazione gastrointestinale ossia lasciare un piccolo break in alcuni giorni all'atleta da un punto di vista gastrointestinale sia anche perché dobbiamo considerare che un atleta che ha un ritmo metabolico più veloce ha anche un delta quindi una variazione tra giorni on e giorni off molto più ampia cioè le calorie che spende con un allenamento sono molto più ampie delle calorie che spendo per esempio io o qualcun altro con l'allenamento quindi logicamente devo comunque avere una certa ciclizzazione per assecondare questo trend quindi per queste ragioni ho visto che comunque con una cycling si riesce a salire di più nel lungo periodo a livello calorico e anche la salita di peso è un po' più omogenea è un po' più ottimale ho fatto diversi video sulla kart cycling quindi rimando nel caso a quelle e sempre correlato a questo discorso di break del sistema gastrointestinale il digiuno intermittente o meglio dei giorni di digiuno o digiuno intermittente inseriti in alcuni momenti quindi quando l'atleta arriva un po' al limite non riesce tanto a mangiare sta un po' nauseato e da un punto di vista gastrointestinale sta un po' così upset allora in questo caso uno o due giorni in cui fai così salta la colazione svegliati mangia soltanto quando ti viene fame e mangia un po' quello che ti va a sensazione che ne so ti mangi due panini te li fai da solo con quello insomma che è logicamente sempre fonti pulite e tutto il resto perché quando si inizia a mettere junk food si fanno casini e su questo arriveremo mangia quello che vuoi due o tre giorni in un certo punto l'atleta tornerà ad avere voglia di mangiare il discorso è questo che la cosa comune in questo caso con gli atleti è che gli si dice ok mangia quello che ti senti l'atleta ti dice ho una fame bestia però non riesco a mangiare questo è un po' sempre la cosa perché è un motore che gira mille la richiesta energetica c'è quindi la fame è veramente veramente ampia la glicemia tende a scendere però realmente c'è difficoltà a mangiare per un discorso proprio di sistema gastrointestinale veramente messo a dura prova quindi in questo caso forzare un piccolo digiuno veramente mangiare a sensazione ma mangiare poco e permettere al sistema gastrointestinale di resettarsi è una buona soluzione 3-4 giorni l'atleta è come un uovo e ricomincia a mangiare come una fornace settimo punto non andate sul junk food questa è una cavolata di quelle bestiali idiote il junk food non dà nessun tipo di vantaggio cibi più densi a livello calorico non sono più densi a livello calorico lo sono semplicemente perché sono più abbondanti di grassi quindi se voi semplicemente mettete più olio barra burro ghee per esempio che è un'ottima fonte perché contiene un alto contenuto di omega 3 nel vostro riso piuttosto che nella vostra pasta avrete comunque un'ottima soluzione inserirete delle uova della carne grass fed molto grassa avete comunque cibi che da un punto di vista di mole sono altrettanto densi l'unico motivo per cui si vuole mangiare junk food e si maschera con questa ragione è perché non si riesce a stare a dieta perché non si riesce a comportare da atleti e quindi si maschera ah ma io devo salire faccio junk food il junk food è stata una soluzione adottata per molti ectomorfi nel momento in cui erano monotoriali quindi ragazzi che non mettono peso logicamente non ne frega più di tanto di gareggiare o altro vogliono semplicemente costruire un po' di massa dico senti il ritmo metabolico è questo mangia un po' di junk food ti diverti è una cosa che ti piace ti distende te lo puoi permettere perché sostanzialmente non è che deve arrivare da nessuna parte non vuoi dare il massimo ottenere il massimo quindi in questo caso è un ottimo compromesso e sono questi i casi ma se dovete salire su un palco se siete atleti non potete darla a bere con il fatto che è l'unico modo per aumentare di peso perché al massimo il peso che vedete che aumenta è un discorso di ritenzione perché sono carichi di sale prendete un sacco di elementi che sono pro-infiammatori sputtanate il sistema gastrointestinale quindi quando poi dovete ricominciare a mangiare o comunque dopo poco andate male di corpo e la microflora batterica la distruggete e assorbite molto peggio e quindi create più danni che altro per cui il junk food assolutamente da bocciare è veramente l'ultima cosa che dovreste fare in questi casi e mi sembra assurdo doverlo dire però è così ora ultimo punto l'ottavo il bulk deve essere molto lungo questo è un punto molto importante nel caso di chi ha questa situazione di metabolismo accelerato logicamente l'ABF non salirà mai tanto la sensibilità insulinica sarà sempre una situazione ottimale verosimile che sia così quello che normalmente si vede per cui il bulk va la pena tenerlo molto più lungo il tempo di prendere massa muscolare sarà più lungo rispetto a molti altri atleti perché c'è una predisposizione a prendere massa muscolare più lentamente ora una cosa molto importante questo non vuol dire che non arriverete mai a mettere tante masse ok molto importante non so se avete mai giocato al Gran Turismo al Gran Turismo ci sono due parametri su cui potevate giocare io ci ho giocato quando ero piccolo quindi non so se è ancora così e torno alle metafore sull'auto ci avete la velocità e l'accelerazione la velocità massima è la velocità massima che potete raggiungere con l'automobile l'accelerazione è quanto velocemente la riuscite a raggiungere ora in questi casi questi atleti hanno semplicemente un'accelerazione molto lenta ma la velocità massima è sempre più o meno quella o meglio è individuale però molto probabile che sia elevata ok che sia buona che sia nel range che sia nel media quello che vi pare non sono collegate queste due cose quindi prendete pazienza state là insistete bulk molto molto lunghi se inserite di minicut ma non cercate di ritrovare una top condition troppo velocemente finché non avete costruito delle buone masse o se dovete salire su un palco ma anche in quel caso datevi del tempo e portate pazienza continuate a costruire continuate a portare avanti un periodo di bulk con la massima calma la massima tranquillità e pian piano i risultati arriveranno ragazzi questo è tutto anche per questo video qualsiasi domanda come al solito qua sotto sarò ben lieto di rispondere e con questo vi rimando al prossimo video